La Confcommercio di Pescara appoggia lo sportello dei sogni dedicato ai pazienti oncologici per aiutare a realizzare i loro desideri. In conferenza stampa l'ideatrice dallo sportello Fiorangela Giuliano, che ha raccontato la sua storia personale di guarigioni dalla leucemia 25 anni fa, ha voluto questa iniziativa per tutti i pazienti che si trovano ad affrontare la malattia, tutto questo con l'appoggio di aziende e associazioni come Confcommercio. Lo sportello dei sogni è un'organizzazione di volontariato che nasce sul territorio nazionale che si occupa di realizzare i desideri del cuore dei pazienti oncologici come supporto psicologico durante il percorso della lunga degenza in ospedale. Nasce da un desiderio del cuore che è il mio personale, in quanto io sono uno dei primi trapiantati di cellule staminali, in quanto sono stata affetta da leucemia 25 anni fa. Durante il mio percorso di malattia sognare è stato un supporto veramente per dire ok andiamo avanti, non mollerò. Tanti pazienti hanno espresso un desiderio del cuore come per dire esco dall'ospedale e vado in moto d'acqua, oppure un giro in gondola, una serenata sotto l'ospedale o anche la possibilità che abbiamo dato ad un bambino di essere capotreno per un giorno. Quindi tutto questo aiuta davvero tutti. Cristian Di Santo dell'Associazione Nazionale Salvamento e il Presidente Confcommercio Riccardo Padovano hanno accolto con entusiasmo la possibilità di dare una mano allo sportello. Mettiamo a disposizione tutte le nostre attrezzature, iniziative, tutti i nostri soci e tutti i nostri volontari e tutta la nostra catena di fratellanza che abbiamo con le altre associazioni e anche con la Capiriporto. Insomma tutto il mondo che riguarda il mare e non, ma soprattutto il mare per realizzare i sogni di tutte le persone che vogliono sognare. Certo, la Confcommercio è sempre vicino a tutto, la società, la comunità. In questo caso è molto vicino perché serve sognare, il sogno è fondamentale per andare avanti e anche perché sono delle, diciamo, delle antitodi non farmaceutici e quindi aiuta le persone che in questo momento stanno soffrendo.